Questa è benzina, io vi do fuoco 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 Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono BB23, oggi siamo tornati su Call of Duty World War 2 per finire la campagna Siamo con l'ultima emissione in Reno, ma prima di andare a giocare la voglio farvi dire una cosa un po' più simpatica Sui ricordi, se andiamo in offensiva delle Ardenne, l'unico ricordo che abbiamo trovato fino adesso è un fumetto di Capitano America Va bene, dai andiamo a finire questa campagna, andiamo a vedere che ci riserva questa missione, se salveranno Ziusman, se torneremo in guerra, non lo so, vediamo Marzo 1945, l'ordine è di conquistare il ponte di Remagen con la nona corazzata il 99 Fatto questo, ai crucchi resterà solo la fuga Vorrei tanto essere insieme a Hazel quando nascerà il bambino, ma devo convincere Pearson a rimandarmi a combattere Devo trovare Zius, lui farebbe lo stesso per me, se non dovessi tornare Beh, abbi cura di loro, Paul Sei marzo, nei pressi di Remagen Oh, cosa sei venuto a fare? Secondo te? A suicidarti Fosse in te non ci andrei, Pearson è fuori di sé Ok, grazie Ti avevo detto di levarti dalle palle Io andrò a prendere Ziusman Digo al cappellano perché non voglio un secondo in te pace Di eseguire gli ordini Nemmeno lei li ha eseguiti rifiutando di abbandonare i suoi a Cassarin Ah, quindi non è stato un massacro perché lui è un pazzo scatenato che ha voluto continuare la missione È stato lui che ha voluto liberarli, ma... Vattene finché puoi farlo con le tue gambe L'ha detto Davis, non è stata colpa sua Lei ha agito per il bene del suo plotone Non ci chiedeva una sberla Subito Io non mi muovo Ho detto fuori Porca puttana Avevo l'ordine di ritirarmi Ma dovevo dimostrare qualcosa Avevo detto che avremmo difeso Questo passo fino all'arrivo dei rinforzi Che non sono mai arrivati Mai arrivati Quindi hai ragione Le ho fatti morire Ora va Non senza il mio plotone Pensi di avere fegato, eh? Prova a fare il tuo lavoro Mentre i tuoi uomini cadono come mosche ogni giorno Turner non si sarebbe mai a... Tiene il re morto Dia un senso alla sua morte Al suo sacrificio Tu non sei un cazzo di sacrifici E' questo Congedo con onore firmato da Davis Tornavo a casa Potevo avere tutto Un'accoglienza da eroi La mia ragazza tra le braccia Cazzo Una stella di bronzo Ma ho un'ultima missione Tu sei un pazzo Fosse solo pazzo Informazione Sargente Informazione Cazzo Se vuoi farlo questo è il momento Vedi di levarti dalle palle Vedo che ci siamo tutti Non tutti Prendiamo quel ponte e troviamo Ziosma Sì caporale Fatto quello Prendiamo e ce ne andiamo Se Ziosma ne è vivo è oltre quel ponte Che forza Dobbiamo conquistarlo D'accordo ci siamo L'ultimo ponte sul reno Se questo convoglio passa Apriremo il front Li divideremo La va o la spacca Siamo all'atto finale La barba è un giorno Dopo diventa di uomo Ha morto uno Stanno a distruggere L'altro posto è peggio Stai in Normandia Forza Con me andiamo Dobbiamo prendere l'ingresso del ponte Sì sergente Forza Ehi Non farmi pentire di averti dato un'altra possibilità Può starne certo Andiamo Vai Vediamo ragazzi Ora avevo la spacca È tutto nelle nostre mani Il compagno è la copertura A me andiamo Il reno Sette mazze Un'ultima possibilità L'ultimo spazio Sì Andiamo Tutti al posto Non permettere di al doso Tutti Tutti ragazzi Avanziamo 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 Siamo senza ridere Attenzione a poco da quegli attornati Attenzione a poco da quegli attorno Ok, ho fatto fuori la prima ammuccia 40 mili Ah, è un panzer Io non ho fatto fuori, avevo un panzer scelto Io non ho fatto fuori, avevo un panzer scelto Io non ho fatto fuori, non ho fatto fuori Non riesco a colpire, dobbiamo alzare Un'arma meglio della carabina, non c'è Torretta Vai Vai, dove c'è sta? Vai 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 Sei o sei catturato? Assumi il controllo della torre quali? arriva il fuoco occhio qua no, spacca regà siamo dei più pezzi granate fumogeni devo conquistare assolutamente assolutamente primo pezzo conquistato vai ahia no, aspetta qui fg42 ma io ho questo sbocco di carabina denies ti copro io occupa l'ultimo piano no, 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 no questo qui mi fa morire ah ma c'è il banco in secondario non me prega morite sono sicuro ma io non c'ho vita faiiello si, si, tra quello di cui apro io sto dietro come una cozza guarda con me andiamo al ponte dai i trucchi faranno saltare il ponte dobbiamo fermarli styles come va? chierano l'impossibile teneteli occupati noi pensiamo alle cariche bene andrò avanti mentre Daniels e styles proteggono i genieri pronti? forza andiamo voi due disinnescate le cariche sotto la struttura i trucchi stanno ripiegando state giù e occhi aperti allora il nostro obiettivo è seguire Pearson perfetto abbiamo anche il suo aiuto nell'individuo a 5 minuti quindi se ci sparano stiamo stiamo messi bene davanti spara per primo da news fuoco 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 fico fuoco 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 un capp not fuori quello con il bardugo ora continuiamo a prendere quelli da lontano Dennis granate e fumogeni vai 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 all'assalto ho fumogeni e granate per te fumogeni e granate dammelo butta qui in arrivo Daniels finisci il lavoro alla torre se non domandi vai via 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 finiamo con il Waffen-28 prendendo questo col ricordo via via posizione nemica avvistata via 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 Non so se esce dritto o non è di Wilson, ciao. Sto prendendo gold. Vai Wilson, pensa che non è grandissimo. Ah, Wilson, come non dico? 28 metri. Sto mettendo dietro. Fatemela usare. Vai. Vai, vai, come è la seconda missione. Sinistra. È un'andata a foglio. Ottimo, Daniels. Centro. Ora è una. Dai, ok, come si è arrivato? Puoi farcela, Daniels. Ottimo, Daniels. Daniels, sinistra. Dov'è? Adosso. Daniels, ti hanno visto. Precipita. Centro. A sinistra. Dov'è? Molpito, continua a sparare. Precipita. Perfetto. Perfetto. Ecco i nostri aerei. Perfetto. Scendiamo. Ma colpiranno tutto quello che hanno. Non è finito. Voi due, con me. Piacere. Perfetto. È il primo è di farina. Noginale. Piacere. Siamo ora! Ciao. Torni. Noi, noi. Piacere. Noi. Che è successo? Siamo circondati ma... Boh Oddio, oddio, questo qui si sta suicidando Ma mori, va Che stava per succedere, venga Stavamo per fare il botto Nemici in vista, stanno uscendo Si arrendono Non sparate, ho detto non sparate Va bene, non spariamo È finita È finita È finita davvero, ragazzi Questa volta si è finita Il punto è nostro Dai, il punto è nostro Lavorale Howard Credo di doverle delle scuse Mi devi molto più di questo Siamo stati grandi Abbiamo fatto la storia I primi oltre il reno Cos'hai da guardare, Fritz? Ci sono campi di prigionie in questa zona Davis ha ordinato di attendere l'autorizzazione Prima di andare a controllare Ma sapete che farvene degli ordini di Davis? Sì, sergente Perfetto Ok Il mio plotone ha attraversato per primo il reno Dai Ora il convoglio avanza nel cuore della Germania Finita la guerra Ormai la guerra è vinta Ma non per me Non finché Zio se l'ha fuori Evilogo Dopo aver lasciato il ponte nella missione a Est Abbiamo perlustrato i campi lungo la strada Pensavo di aver visto ogni tipo di atrocità Mi sbagliavo Eh ragazzi Ma di sicuro Non scorderò mai quello che ho visto I superstiti ci hanno detto che gli altri prigionieri Tra cui Ziusman Erano stati portati in un campo più piccolo a tre ore da lì Potevo solo sperare che fosse ancora vivo Quattro aprile, Berga Questa è l'ultimo Mi sembra un campo di lavoro Forza Prova Ziusman Ho l'impressione che sia deserto Speriamo di no eh Perché se no è un finale triste Sì Volevano nascondere E qui non si sa perché non posso passare Vabbè Ragazzi non so se troveremo un No Tiusman Questo qui comunque sarà un finale tristissimo Lo è già da adesso Questi erano i nostri Scatta delle foto Il mondo deve sapere Vabbè il fotografo Li trattavano peggio delle bestie A quanto pare Venivano picchiati e affamati E uccisi di lavoro E' una dura verità che purtroppo sappiamo tutti Cerchiamo da altre parti del campo I nazisti hanno ucciso i nostri ragazzi a sangue freddo Nemmeno l'inferno è una punizione sufficiente Questi li hanno ammazzati per dare un esempio Già ragazzi Hanno massacrato i più deboli Chiunque potesse rallentarli Daniels Vieni qui Daniels Vieni a vedere Le trasse portano i campi Li hanno fatti marciare fin là Allora andremo lì Frena l'entusiasmo caporale L'ho permesso a Tiusman Lo troveremo ma non so dirti se vivo o morto Sergente Vado avanti Siamo smart Alla fine il cerchio si chiude Quello che ho fatto Che avrei voluto fare Tutta la mia vita mi aveva condotto lì Dobbiamo tornare a casa fratellino Boh Fatti l'ho immaginato Immaginato Sei morto lì nella neve Solo perché io Merda Arrivo Tiusman Non morirai fratello Non ora Non oggi Guarda trova qui mezzo ai boss Li ho chiuso Li ho chiuso Oh oh Non ti spari Sono qua Troziusman 50 metri Prima di giustizia No corri Corri Hai detto joystick Hai detto joystick Il testa Bastardo Mi hanno rasato Deve essere un sogno Che ti hanno fatta Credevo Che ci aveste abbandonati Che sarei morto qui da solo Su bevi un po' Tranquillo Mi hai sempre protetto Paul E so che l'hai fatto anche oggi C'è solo una cosa che ti fa andare avanti in quella lunga marcia Avere i tuoi fratelli al tuo fianco La storia ha chiamato Voi avete risposto Siete venuti tutti qui per difendere pace e libertà Io vi ringrazio Il mondo vi ringrazia Comunque andrete in futuro Ricordate Resterete Per sempre Fratelli Ed è voi Ci siamo gente Ziousman voleva che lo avessi Servirà più a te Hai un figlio ora Grazie per la fiducia Te la caverai Signore Queens Il figlio al prodigo ritorna Starei bene? Farei Peter Parker Devo salutare Il film Di Raimi Su Stiles Così Signor Pearson Fa a casa sergente Sono a casa E tu resterai? Manco dal Texas da tanto tempo Riguardati campagnolo Lo farà Quando mio figlio me lo chiederà Dirò che ho combattuto nella prima Ma con quel pazzo bastardo di Pearson Pazzo a dir poco C'è ragione Se passi da Chicago Ci verrò Magari ti faccio prima io una sorpresa a Longview Sarai il benvenuto Sai Quando ci hanno catturati Ci hanno preso più della libertà Eravamo tanti Ma sapevamo di essere soli E volevamo sopravvivere a ogni costo Ma tu Tu potevi andare a casa d'Eroa Perché sei tornato? Ho visto quella vita Ma non potevo viverla Fino alla fine La guerra è finita È vinta È andato tutto per il bene Ma anche un po' Finale è triste Molto triste Più che triste è significativo Adesso è un arcidofono Mi stacco le cuffie Sicuramente resta il discorso finale No Non è vero niente Ieri il sogno è stato diverso Siamo tornati a casa insieme Stavolta Sento ancora quei lupi Paul Qualche volta li vedo arrivare Ma tu mi hai insegnato ad affrontarli Questa appartiene a te Il tuo sacrificio mi ha dimostrato Che un eroe Rischia tutto per i suoi fratelli E per me tu sei un fratello e un eroe Qui non legge Pulse il mio modello Dal giorno in cui Bracciatevo il fucile per la prima volta Mi ha insegnato quanto sia importante Combattere i miei compagni E con un po' di fortuna Sopravvivono l'anima intatta Ancora che suonano Va bene ragazzi Penso che per oggi Vi possiamo fermare qui Finisce qui la campagna In Call of Duty World War 2 Spero che questa serie vi è piaciuta Se vi è piaciuto anche Quest'ultimo video Mi raccomando Lasciate un mi piace Iscrivetevi E niente Ci vediamo al prossimo video Bella Ciao 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 Ciao